Terribile, terribile, è successa una cosa terribile, mi agolò Diderot quando li vide arrivare. Passeggiava nervoso davanti a un enorme libra aperto sul pavimento e a tratti si portava le zampe anteriore alla testa, sembrava davvero sconsolato. Cos'è successo? domandò il segretario. Esattamente quello che stavo per domandare, a quanto pare togliermi i miagolì di bocca è un'ossessione, osservò colonnello. Su, non sarà poi così grave, suggerì Zorba. Come non è così grave? È terribile, terribile. Quei dannati topi si sono mangiati un'intera pagina dell'Atlante. La cartina del Madagascar è scomparsa, è terribile, insistete Diderot tirandosi i baffi. Segretario, mi ricordi che devo organizzare una battuta contro questi divoratori del Madagascar. Insomma, lei sa a cosa mi riferisco, mi agolò colonnello. Madagascar, precisò segretario. Continui, continui pure a togliermi i miagolì di bocca, mannaggia, esclamò colonnello. Ti daremo una mano, Diderot. Ma ora siamo qui perché abbiamo un grosso problema e visto che tu sai così tante cose, forse puoi aiutarci, mi agolò Zorba e subito gli narrò la triste storia della gabbiana. Diderot ascoltò con attenzione, assentiva con cenni del capo e quando la coda, attraverso nervosi movimenti, esprimeva con troppe eloquenze i sentimenti che gli risvegliavano in lui i miagolì di Zorba, cercava di schiacciare la terra con le zampe posteriori. E così l'ho lasciata molto mal ridotta poco fa, concluse Zorba. Che storia terribile, terribile. Vediamo, fatemi pensare. Gabbiano, petrolio, petrolio, gabbiano, gabbiano malato. Ci sono, dobbiamo consultare l'enciclopedia, esclamò esultante. La cosa? Mi agolarono i tre gatti. La enciclopedia, il libro del sapere. Dobbiamo cercare nei volumi sette e sedici, corrispondenti alle lettere G e P, spiegò deciso Diderot. E allora vediamo questa emplico, epico, lo esortò colonnello. Enciclopedia, sussurra lentamente segretario. È ciò che ti stavo per dire. Vedo che ancora una volta non può resistere alla tentazione di togliermi i miei agoli di bocca, brontolò colonnello. Diderot si arrampicò su un enorme mobile nel quale erano allineati grossi volumi d'aspetto importante. E dopo aver cercato sui dorsi le lettere G e P, fece cadere i tomi. Poi scese giù e con un artiglio molto corto e logoro a forza di esaminare i libri, cominciò a sfogliare le pagine. I tre gatti mantennero un rispettoso silenzio, mentre lo sentivano bisbigliare i miei agoli quasi impercettibili. Sì, credo che ci siamo e che siamo sulla buona strada. Interessante. Gabbano, gabbare, gabbia. Accidenti, sentite qua amici, sorta di casetta con le pareti formate da sbarre in cui si richiudono animali vivi. È terribile, terribile, esclamò indignato Diderot. Non ci interessa quello che dice delle gabbie, siamo qui per la gabbiana, lo interruppe segretario. Sarebbe così gentile da smetterla di togliermi i miei agoli di bocca? Borbottò Colonnello. Mi scusi, è che per me l'enciclopedia è irresistibile. Ogni volta che guardo le sue pagine imparo qualcosa di nuovo, si giustificò Diderot e continuò a guardare le parole finché non trovò quello che cercava. Ma ciò che l'enciclopedia diceva dei gabbiani non fu di grande aiuto. Scoprirono solo che la gabbiana, oggetto delle preoccupazioni, apparteneva alla specie argentata, cosiddetta per il colore argente o delle sue piume. E anche quello che trovarono sul petrolio non li portò a scoprire come aiutare la gabbiana, ma solo assorbirsi una lunga dissertazione di Diderot che non la finiva più di parlare di una certa guerra del petrolio scoppiata negli anni settanta. Per gli aculei del riccio siamo di nuovo da capo, mi aggolò Zorba. È terribile, terribile, per la prima volta l'enciclopedia mi ha deluso, esclamò sconsolato Diderot. E in questa emplico encimole, insomma sai cosa intendo, non ci sono consigli pratici su come togliere le macchie di petrolio, chiese Colonnello. Geniale, terribilmente geniale, avremmo dovuto iniziare da lì. Vi tiro subito giù il diciannovesimo volume, lettera se, come smacchiatore, annunciò Diderot euforico, arrampicandosi di nuovo sul mobile dei libri. Si rende conto? Se lei avesse avvitato quell'odiosa abitudine di togliermi i miei goli di bocca, sapremmo già cosa fare, spiegò Colonnello al silenzioso segretario. Nella pagina dedicata alla parola smacchiatore trovarono, oltre a come togliere le macchie di marmellata, inchiostro di china, sangue e sciroppo di lamponi, la soluzione per eliminare le macchie di petrolio. Si pulisce la superficie interessata con un panno bagnato di benzina. Ecco qua, mi agolò Diderot. Ecco qua un bel nulla, dove diavolo troviamo della benzina? Brontolò Zorba con evidente malumore. Beh, se non ricordo male, negli scantinati del ristorante abbiamo un barattolo con dei pennelli a mollo nella benzina. Il segretario sa già cosa fare, mi agolò Colonnello. Mi perdoni, signore, ma non afferro la sua idea, si scusò segretario. È molto semplice, lei si bagnerà adeguatamente la coda di benzina, poi andremo a occuparci di quella povera gabbiana, spiegò Colonnello guardando altrove. Ah no, questo proprio no, assolutamente no, protestò segretario. Le ricordo che il menù di stasera prevede doppia razione di fegato con la panna, sussurrò Colonnello. Infilare la coda nella benzina. Ha detto fegato con la panna? Mi agolò costernato segretario. Liderot decise di accompagnarli e tutti e quattro i gatti corse all'uscita del bazar di Harry. Quando li vide passare, lo scimpanzè, che aveva appena finito di bere una birra, dedicò loro un sonoro rutto.